salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente è arrivato il giorno del test di lui l'SJRC F7 Pro questo drone di cui ho fatto l'unboxing e ho fatto le mie prime considerazioni qualche video fa ve lo lascio qua sopra nelle schede andate a vederlo perché in quel video ho spiegato bene che materiali ottimi sono stati usati per costruire questo drone come è assemblato bene cioè veramente un drone ben ben fatto per essere comunque un drone low cost che costa poco meno di 200 euro questo marchio SJRC come sapete il produttore del F11 4K Pro questo drone super venduto con caratteristiche video davvero importanti per un drone low cost qua ragazzi loro ci hanno riprovato facendo un drone probabilmente di qualità ancora superiore dal punto di vista della costruzione della qualità dei materiali ma come succede spesso per i marchi low cost cinesi che secondo me hanno questa sorta di masochismo in cui gli piace farsi del male da soli perché arrivano sempre a creare qualcosa di buono per poi mettergli sempre un particolare o un qualcosa che non li rende dei drone e quindi si permette di fare un salto di qualità e anche questa volta ovviamente non ci hanno delusi il loro masochismo è arrivato nella videocamera perché il il drone ragazzi come poi vedrete tra poco nel video è secondo me è fantastico in tutto comportamento in volo fantastico overing fantastico davvero un drone super top con una telecamera importante vedete qua appunto di dimensioni importanti quindi io dico avete fatto una qualità incredibile nel SJRC F11 4K Pro mettendogli una fotocamera molto più ridotta avete ottenuto una qualità video incredibile qualora cosa hanno fatto qua abbiamo una stabilizzazione del gimbal su tre assi meccanici e devo dire che lavora benissimo anche perché vedete che comunque è un gimbal come poi ho fatto vedere nell'unboxing davvero importante ma cosa hanno fatto ragazzi cosa hanno fatto quando l'ho visto il video e sono andato a analizzare le caratteristiche del video che avevo registrato hanno come impostazione 15 fps c'è questo drone registra in 4k a 15 fotogrammi al secondo e ragazzi non si può fare un drone di questo livello davvero un drone davvero bello davvero interessante un drone che lo coste ma lo coste di quelli che davvero ci lasciano a bocca aperta e poi mi fa in 4k a 15 fps ma se sull'f11 4k pro porca merda gli hai fatto una fotocamera in 4k a 30 fps perché qua gli hai fatto 15 fps infatti ragazzi adesso poi lo vedremo nel video il video è stabilizzato bene secondo me dal punto di vista del gimbal ma si hanno questi micro scatti dati appunto da questi pochissimi fotogrammi perché 15 fps sono davvero pochi 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 ragazzi non so perché l'abbiano fatto anche perché ragazzi ripeto guardate che fotocamera importante che gli hanno messo e poi mi ha messo 15 fps riducendo praticamente del 50% gli fps che avevi sul f11 4k pro è veramente una cosa vergognosa non riesco a capacitarmi di questa cosa ed è davvero un peccato perché ragazzi il drone è fatto benissimo in ogni particolare dettaglio materiali tutto 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 porca miseria mi fanno venire un nervoso a me queste cose che non immaginate neanche perché sono occasioni perse per motivi che io non riesco a giustificare quindi fatta questa doverosa intro ragazzi adesso è arrivato il momento di testarlo e lo testeremo nelle cose in cui siete abituati a vederlo nei miei test e quindi comportamento in volo overing return to home qualità video e foto quindi tutte queste cose che ci fanno capire com'è questo drone quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e iniziamo il test di questo sgc f7 4k pro allora il drone come vi ho fatto vedere nell'unboxing vi arriva in questa bellissima borsa di trasporto fatta di qualità incredibile anche lei come il drone sembra una borsa per i droni di dj ai veramente di qualità incredibile non l'avevo mai vista una borsa di questa qualità in un drone che costa meno di 200 euro e devo dire tanta tanta roba da questo punto di vista poi il controller ragazzi come ho detto nel video andate a vederlo bellissimo anche qua sia come design come qualità di materiali come diciamo gestione degli stick bellissimo e controller e poi ragazzi lui le f7 4k pro che un drone comunque particolare perché è richiudibile ma con la fotocamera appesa sotto quindi andiamo a togliere il blocca bracci per quando l'abbiamo inserito nella borsa e a questo punto possiamo andare aprire i bracci si aprono tirandoli verso di noi quelli anteriori invece bisogna farli scorrere verso il basso e poi salgono un po come sono i mavic per intenderci di dj ai apriamo i bracci andiamo a togliere il copri gimbal come vi ho detto il gimbal è davvero di ottima fattura ma tutto questo come vi ho detto buttato via da questi 15 fps perché guardate ragazzi che gimbal fantastico che a questo drone è andate a recuperare il video della box perché ve l'ho fatto vedere davvero bene lì ed è un gimbal secondo me davvero di qualità per un drone low cost allora per prima cosa andiamo ad accendere il radiocomando è una cosa da dire che tutte e due le antenne hanno è una cosa da dire che tutte e due le antenne sono vere come sapete tanti lo costa o hanno tutte e due le antenne finte o ne hanno una diciamo reale è una finta qua invece gli abbiamo tutte e due vere infatti in tutte e due le antenne passa il filo e si vede qua dentro dalla fessura infatti questo drone viene dato per un range di tre chilometri senza interferenze mi sembra davvero tanto però staremo a vedere ovviamente non faremo un range test però già si vedrà se come se fa come tutti i suoi diciamo diretti concorrenti o anche sempre altri droni come le f11 4k però che comunque intorno ai 400 metri il segnale inizia andarsene se qua invece il segnale continua a reggere anche oltre i 400 metri anche la batteria è una batteria secondo me come minutaggio importante allora accendiamo il controller andiamo ad accendere il drone l'accensione come dj ai anche la musichetta in effetti lo ricorda molto aspettiamo che i due dispositivi si connettano fa tutto in automatico è la connessione dobbiamo solo attendere che si connettano abbiamo sul display del radiocomando che comunque radiocomando a un display suo abbiamo connetti vuol dire che si stanno connettendo e dobbiamo solo aspettare perfetto avete sentito anche questo bip lungo che ci avvisa che i due dispositivi sono con me sono connessi e comunicano a questo punto bisogna fare altro che andare a prendere lo smartphone e adesso basterà entrare nelle impostazioni andare a cercare la rete wifi creata dal drone perfetto ecco qua la rete sjf pro andiamo a cliccarci sopra a questo punto basterà andare aprire l'applicazione sjf pro e siamo già pronti a decollare ed ecco qua che abbiamo già la telecamera che inquadra applicazione è semplicissima qua con i tre appuntini abbiamo le impostazioni che possiamo dargli a livello di distanza altezza return to home ovviamente come tutti i droni c'è da calibrare sia la bussola che il giroscopio il giroscopio io l'ho già calibrato a casa come dico sempre in tutti i video perché va messo su una superficie piana con un pavimento un tavolo e andando a tirare gli stick in alto verso l'esterno andiamo a far calibrare il drone o meglio il giroscopio del drone che farà flashare i led per diciamo un secondo e a quel punto il giroscopio è calibrato quello lo fate a casa come dico sempre non in giro perché comunque non sia mai una superficie piana normalmente mentre la bussola calibrate la sempre dove andate a volare per calibrare la bussola stick anziché in alto verso lo esterno in alto verso l'interno tutti e due ed ecco che appare vedete nello smartphone o meglio nell'applicazione di far girare il drone perfetto adesso ci dice di farlo girare verso il basso e calibrazione avvenuta con successo perfetto il drone è pronto al decollo abbiamo addirittura 16 satelliti quindi direi che tutto è pronto per decollare vado a far partire la registrazione video stick in basso verso l'esterno e decolliamo allora ragazzi facciamo subito una prova di overing e guardate l'overing direi che è impeccabile e non ha nessun sensore sotto di lui né optical flow né sensore ultrasuoni sensore infrarossi non ha niente sotto di lui eh però come anche il suo fratello f11 4k pro ragazzi gli basta avere la bussola il giroscopio il gps eh per essere un drone eh fantastico dal punto di vista dell'overing guardate che roba è impeccabile allora adesso facciamo un volo giusto per capire il comportamento il drone ragazzi è bellissimo da pilotare è un drone che è davvero semplice sicuro ha davvero tutto quello che serve per essere un drone low cost di super qualità è davvero un drone di super qualità saliamo di quota e andiamo avanti e come state già vedendo probabilmente nel video vedete tutti questi micro scatti dati da questi 15 pietosissimi fps cioè veramente una cosa vergognosa allora aspettate che c'era una specie di falco cos'è che ha tentato di prendermi il drone non so che un uccello fosse in realtà però era bello grosso allora salgo ancora di quota e fatto questo test in cui il drone secondo me è super promosso dal punto di vista del volo direi che possiamo scattare qualche foto quindi vado ad interrompere la registrazione video impostiamoci su foto e scattiamo qualche foto una ci giriamo di qua due poi adesso magari ne facciamo anche una contro sole per capire appunto come il drone da quel punto di vista come si comporta la fotocamera se abbiamo il sole contro adesso mi giro adesso sarete col sole contro anche con questa fotocamera ovviamente quindi così ho il sole contro anche mi sposto sul lato vado abbassare un po il gimbal perfetto e scattiamo una foto così avete l'idea dal punto di vista anche della qualità delle foto ricominciamo a registrare il video e andiamo ad un'altezza magari di circa 70 metri e allontaniamoci un po allora in questo momento siamo a circa 60 metri di distanza vediamo quanto tiene il ritorno video siamo a 100 metri e poi facciamo un bel return to home e vediamo anche appunto come si comporta a livello di precisione e anche di sicurezza nel return to home siamo a 200 metri aspettate che mi giro da questa parte che non almeno non ci sono case perfetto siamo a 300 metri il video sembra tenere ovviamente ci sono questi piccoli ritardi però a livello di qualità nel ritorno video c'è ancora anche se ci sono questi piccoli riscattini però non sono questi che creano un problema dal punto di vista della sicurezza vediamo siamo a circa 400 metri siamo a 450 a 500 comunque ragazzi ritorniamo perché vabbè con un drone low cost non mi fido andare più in là di così però va sicuramente più lontano di uf 11 4k pro siamo ben oltre ai 500 metri 5 50 torniamo esageriamo 550 dai 550 550 ritorniamo probabilmente sarebbe andato oltre quindi sicuramente a un range maggiore rispetto alle f11 4k pro infatti viene dato per tre chilometri quindi sicuramente maggiore rispetto al chilometro se non sbaglio dato per le f11 4k pro è realmente è di più e io mi sono fermato prima è di quello che comunque un problema di ritorno video a questo punto vado attivare il return to home ok return to home attivato e adesso vediamo il suo return to home questi droni ragazzi come dico sempre l'importante è che arrivino nell'area da dove sono decollati anche se non beccano il landing non è importante l'importante è che tornino in questo diciamo raggio di 10 metri allora vediamo siamo a 300 metri non lo vedo ancora anche perché c'è un sole talmente forte che si fa fatica a vedere fino eccolo lo vedo c'è un puntino nero la che arriva sta arrivando mi raccomando ragazzi commentate sotto la vostra opinione perché so che in tanti lo stavate aspettando la mia recensione riguardo questo drone ragazzi ditemi la vostra cosa ne pensate e qua è ormai ci siamo adesso vado abbassare il gimbal così vediamo allora vado abbassarlo ancora il il gimbal così vediamo cosa mi combina ma cosa che sta facendo non so cosa stia facendo sta girando in tondo ok è arrivato nella zona dove ero è iniziato a girare in tondo cioè non si è messo a scendere come per dire io sono arrivato sono sopra di te dimmi cosa devo fare ok adesso ho disattivato il return to home gli ho ridato il return to home ha iniziato il landing però facendo un cerchio adesso atterrerà atterrerà vicino a me ma là perché comunque l'ho fermato in un punto che non era sopra diciamo al landing adesso vado ad interromperlo ecco l'ho interrotto adesso lo posso pilotare lo faccio scendere io è successa questa cosa stranissima in cui lui è arrivato da dove è partito cioè sopra di me ha iniziato a girare intorno come per dire adesso cosa faccio atterro vuoi che a terra vuoi che continuo secondo me è una cosa del genere perché poi andando a ricliccare ha iniziato il landing e quindi questo vuol dire che lui arriva perché gli abbiamo dato il return to home però non per forza scendere perché magari lo vogliamo solo richiamarlo vicino a noi e che sia diciamo a vista nostra a quel punto se andiamo a ricliccare inizia il landing però ovviamente il landing girando in tondo potrebbe non essere proprio sopra di noi o meglio sopra al landing è sopra di noi ma non sopra al landing infatti stava scendendo da più o meno a una decina di metri da dove sono io poi adesso io ho bloccato il return to home e lo sto facendo riatterrare manualmente eccolo qua andiamo a alzare la telecamera allora ragazzi cosa dire lo vedete cioè il drone è incredibile incredibile nel volo sta cosa del return to home mi ha sorpreso anche me perché non l'avevo ancora provata un return to home in cui lo dovevo fare atterrare l'ho fatto diciamo per la prima volta con voi appunto per scoprire con voi quello che fa e non andare magari a modificare quello che poi sarebbe stato perché mi piace appunto portarvi sul canale quello che veramente fanno o non fanno questi droni quindi tante cose le provo direttamente con voi ovviamente l'avevo già provato dal punto di vista del volo della sicurezza queste cose il comportamento in volo perché altrimenti non ve l'avrei neanche portato sul canale se era un drone che era una cosa indecente invece talmente bello da pilotare tutto che era giusto portarvelo e però il return to home in realtà non l'avevo mai provato perché comunque ho sempre volato vicino a me quindi sempre fatto prove solo dal punto di vista del comportamento del drone e adesso il return to home l'ho voluto provare appunto per la prima volta con voi perché per trasmettere quello che le sensazioni quando lui arriva vicino a dove siamo noi essendo pure andato ad una distanza di 550 metri e ha fatto questo return to home particolare cioè che torna arriva dove siamo noi da dove è partito e inizia a girare in tondo aspettando un comando io ho ricliccato il return to home e ha iniziato il landing non so se questa è la procedura giusta però una volta che era sopra di me ho cliccato ancora return to home è iniziato a scendere ovviamente girando in tondo non scende sul landing ma scende magari a 5 6 metri da noi allora ragazzi cosa dire di questo airser jersey f7 4k pro che è un drone sicuramente adatto ai principianti perché comunque è un drone che vola bene ragazzi qualità incredibile anche le batterie sono fatte benissimo il dettaglio dei pulsanti il gimbal che secondo me è un gimbal ben fatto solo che non viene valorizzato perché ci sono stati poverino dati a questa fotocamera solo 15 fps e se tu mi fai anche un gimbal super stabilizzato ma mi dai solo 15 fps alla fine abbiamo comunque un video che non è utilizzabile perché ragazzi questi fps ci danno questi micro scattini che ci danno dei video davvero poco poco utilizzabili quindi perché fanno queste cose io davvero non lo capisco non lo capisco se qualcuno di voi me lo spiega mi fa un favore come mai fanno ste vacate incredibili eh perché il drone è fantastico bastava mettergli le stesse fps i 30 fps che ha il suo fratello l'essere si f11 4k pro e basta avevano fatto un drone pazzesco secondo me stabilizzazione tutto sarebbe stato magari anche superiore a quel altro drone cioè era un drone davvero davvero bello 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 per la sua fascia di prezzo quindi ragazzi spero che questa mia recensione di questo f7 4k pro vi sia piaciuta spero di avervi spiegato bene i pro e contro di questo drone anche perché di contro non ne ha a parte di fps per il resto secondo me ragazzi è tutto pro però basta anche solo una piccola cosa come questa negativa che va a rovinare tutti i pro che ha questo drone quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram da porto tante novità anteprime spoiler voli in fpv stampe 3d anteprime di quello che porterò sul canale posti dove vado volare ragazzi seguitemi su instagram perché davvero davvero arrivano lì tante cose sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove porto gli sconti le offerte quindi se vi va e volete sostenere il mio canale ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un test un tutorial o una novità ciao